scogliattolo bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi porteremo sul canale una challenge faremo la try don't laugh challenge con l'acqua qui con me ci sono giaco, lisi, robbie sacks e il tag barbie allora in che cosa consiste la try don't laugh challenge, abbiamo qui davanti due serie ci saranno due persone che si siederanno e dovranno prima fare un sorso d'acqua si dovranno guardare e cercare di non ridere se uno dei tuoi video l'idea automaticamente è la vera, quell'altro detto questo buona visione ciao 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 Siamo pronti? Allora, Elisa, lo trovano a via! Guardate, apri gli occhi, apri gli occhi, no, apri gli occhi! Elisa e Florelilla! E' un po' di distraccione! E' un po' di distraccione! Che bello che ti aveva ora! E' un po' di distraccione! Gianni! 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 Cero! Guardate, guardate! Non puoi dire! André la bottiglia! E' un po' di distraccione! E' un po' di distraccione! inosしゃgr San Stefano! E' un po' di distraccione! E', 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 e! A ora, un po' di distraccione! It's an idea! B changed you! no keywords la faccia così facciamo dai, gli ultimi due dec quindi qua dobbiamo contare i punti Elisa 2 punti, Tec 2, Tec 2, Giacomo 1, Giacomo 1, Giacomo 1, Giacomo 2, Ehi! Attenzione ci può essere una finalissima, una finalissima perché noi mettiamoci Ok, posso sott'acqua, cosa? Non vale tutto! Non vale tutto! No, 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 no! E' solo in bottiglia? E' salvato in inversione! In inversione! Bene ragazzi questo era il video della try it on love challenge with the water, quindi con l'acqua! Il vincitore è... Vieni qua davanti a tutti! No, non lo so... E' siccome c'ho un pantalino... Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto! Vi lasciate un bel mi piace, commentate, condividete! Noi ci vediamo al prossimo video! Mi è comparso un cappello da nulla! Bene ragazzi è BOOM BABY! Noi ci vediamo al prossimo video! Noi ci vediamo al prossimo video! Ciao!